bella iniziativa oggi qua nella villa Volla dove i bimbi oggi quest'oggi possono giocare finalmente un po all'aria aperta quindi lontane dalla tecnologia diciamo un po stop alla tecnologia e grazie a questa iniziativa che i bimbi possono giocare appunto possono fare tantissimi giochi come i giochi di una volta quelli là in legno che ormai abbiamo un po tutti dimenticato no però grazie a questi ragazzi grazie a questa bellissima iniziativa i bimbi possono un po ritornare alle loro origini e divertirsi all'aria aperta allora per me è un'iniziativa bellissima noi abbiamo sfidato la piozza perché siamo venuti in bicicletta per tantissimi motivi innanzitutto perché sono giochi in legno quindi un materiale meraviglioso in sostituzione della plastica e poi perché si riscoprono dei giochi che altrimenti andrebbero perduti invece li possiamo far conoscere ai nostri bimbi anziché poi stare chiusi in casa davanti agli schermi siamo qui tutti insieme a giocare e a divertirci quindi grazie di questa bellissima iniziativa buongiorno sia per me è una bellissima iniziativa perché permette ai bimbi di giocare molto naturale nel senso che con con legno con cose molto semplici che gli permettono di muoversi ed è bello una bella cosa sono contento per me questa cosa che avete fatto è bellissima perché far divertire i bambini è un'esperienza che non si può sfruttare anche per me e Grazie a tutti Grazie a tutti